Il Vangelo di questa domenica ci parla della vita e quante volte la vediamo faticosa e trascinata giorno dopo giorno, specialmente in questo anno ormai così condizionato dal Covid. Ma ci sono persone invece che con coraggio vanno contro questo stile così negativo, che atrofizza e anestetizza la vita propria e di conseguenza anche quella degli altri. Queste persone che vanno contro lo stile di vita negativo incarnano pienamente il Vangelo di oggi. E allora facciamoci scuotere dal Vangelo di questa domenica, che ci invita e ci chiede di andare oltre le paure, oltre ciò che accade nel mondo di oggi. Ci chiede di sfidare il buio del mondo anche con una piccola luce, perché la grande conversione è passare dal maledire le avversità e trascinare la vita senza speranza, ad accendere la luce in noi e portare la speranza nel mondo. Allora ecco che il Vangelo di oggi ci invita proprio a non vagare più nel buio delle nostre vite, ma anzi ad essere lampade delle fiaccole che illuminano e scaldano. Il racconto evangelico proposto dalla liturgia di questa domenica è estremamente ricco di dettagli, pertanto vi consiglio di meditarlo, di leggerlo più volte, affinché ognuno di noi possa cogliere gli innumerevoli punti di riflessione. Io mi soffermo semplicemente su uno, l'olio. L'olio che manca a cinque ragazze in attesa dello sposo e che altre cinque, avendone un po' di più, non vogliono darlo alle loro amiche per non restare senza. Queste ragazze sono la fotografia dei cristiani di oggi. Ci sono alcuni che con una fede retta, che a volte può sembrare dura e all'apparenza tra virgolette poco cristiana, annunciano una fede con idee forti e chiare, che non scende a negoziazioni, non scende a patti col mondo. Altri invece cercano di arrabbattarsi nella fede come vogliono, hanno poco olio, cioè hanno poco desiderio di crescere nella fede e cercano poi sempre di avere aiuti dalla fede nei momenti difficili chiedendo a Dio o agli altri. Allora, cos'è questo olio? Come tradurlo al giorno d'oggi? Questo olio è un vero ardore per il Vangelo e per la fede, un vivere alla ricerca continua della fede, sapendo che certamente bisogna dare un giusto tempo al lavoro per nutrire il corpo, per pagare le spese, ma bisogna anche vivere una fede per nutrire l'anima e godere la vita, perché sovente si mettono delle priorità che illudono la nostra vita. Quest'olio rappresenta una fede viva, una fede vera, che deve scaldare il cuore e incendiare l'anima. Una fede che deve far nascere desiderio, curiosità e anche inquietudine e passione per conoscere Dio, per entrare più in relazione con Lui. Solo le anime ardenti osano sfidare la notte della vita, proprio come i santi che abbiamo festeggiato la scorsa settimana, che sono, come dicevo, uomini e donne totalmente vere che hanno sfidato il mondo con la ricerca costante delle cose del cielo, con la ricerca costante di Dio. Allora il Vangelo di questa domenica ci porta a riconoscere l'essenzialità della fede nella nostra vita. Allora basta a autocorreggerci o ad autogiustificarci dicendo se solo riuscissi ad organizzarmi meglio magari verrei tutte le domeniche a messa, o sicuramente devo trovare il tempo nella giornata di pregare di più, oppure adesso proprio ho troppe cose per la testa, quando avrò più tempo verrò in chiesa, oppure ancora peggio, io prego a modo mio e non ho bisogno di andare a messa o in chiesa. Ora, ecco questa visione superficiale e troppo personalizzata della fede, quest'olio non nutre, quest'olio non dà vita, non dà luce, bisogna andare oltre alle proprie sensibilità e osare realmente di riavvicinarsi alla fede, quella bimillenaria della Chiesa, in un modo coraggioso e non solo con le intenzioni del cuore, in un modo vero, secondo la Chiesa e non secondo le proprie sensazioni, spesso dettate da una vita che non mette al centro la fede, ma tutto il resto, e questo resto non riempie la vita, non dà quella pienezza a cui tutti anegliamo. Allora oggi più che mai è il tempo di essere cristiani autentici, coraggiosi, non diventare cristiani che sonnecchiano e che sperano con fatica in tempi migliori. Ritornare al vero cristianesimo, quello fatto di essenzialità, un reale spirito missionario fatto non solo a parole, ma con fatti reali. La fede si vive con atti concreti. A volte la fede invece è ridotta a blanda appartenenza culturale. È il tempo di risvegliarci dal torpore e anche risvegliare non solo la nostra fede, ma anche gli altri con entusiasmo. Dobbiamo essere realmente portatori di olio che accende le lampade spente e annunciando magari l'incontro con Cristo dicendo che nonostante quello che siamo, annunciamo colui che ci ama. Che bella la frase da ripetersi nel cuore. Nonostante quello che sono, porto colui che mi ama e che mi ha sempre amato e che non smetterà mai di amarmi. La frase centrale del Vangelo di questa domenica è una parafrasi della frase che ho appena detto, perché la frase centrale è «Ecco lo sposo, andategli incontro». Si parla di un vero movimento fisico, di ardore, di una corsa verso gli altri e verso Dio. Uscire da spazi chiusi che ci soffocano l'anima per annunciare Gesù in tutti i luoghi, a partire dalla famiglia. Andare verso coloro che non sono vicini alla fede e con coraggio, senza anacquare la fede, e se il caso anche con una chiarezza che è durezza, annunciare la vera fede. Cristo è uno sposo. Noi cristiani, noi battezzati, come Chiesa, siamo la sposa. Allora incarniamo, viviamo, quelle cinque giovani vergini del Vangelo di questa domenica che hanno dell'olio come riserva, che sanno che Dio è fedele. E allora anche noi dobbiamo essere fedeli all'annuncio che dobbiamo portare nel mondo e custodire quella luce che ci è stata donata il giorno del battesimo, nutrendola ogni giorno. Allora come sintesi mi piace concludere con l'immagine di una lampada, dell'essere fiaccola, perché una fiaccola ha due grandi qualità. Illumina e scalda. Ecco cosa siamo chiamati ad essere oggi nel mondo. illuminare, illuminare le vie della vita di persone che vivono nel buio e scaldare i cuori freddi disorientati dal mondo. Ecco la chiamata di questa domenica, essere fiaccole che con coraggio rimangono accese nonostante i tanti mali del mondo per portare luce e calore nel mondo, vivendo ogni giorno con Dio, in Dio e per Dio.